Mister, c'è stato qualche giorno in più per inserire gli ultimi arrivati, il Modena si prefigge un passo in avanti, magari anche sul piano del risultato a Reggio Emilia? Sotto il piano delle prestazioni, io non pensavo che la squadra potesse far così bene, soprattutto nell'ultima partita di Forlì, dove ritengo che la mia squadra abbia comandato il lungo e il largo, facendo anche un discreto calcio, soprattutto nel primo tempo, e dove onestamente siamo stati sconfitti in maniera inopinata e immeritata. Poi magari ognuno può dire la sua, io dico che avessimo giocato al Braglia, quella partita probabilmente l'avremmo stravinta per come si era incalarata. Poi abbiamo fatto qualche errore in delle scelte, dove non abbiamo chiuso la partita, però la squadra ha giocato secondo me un primo tempo quasi perfetto, tenendo presente che molti giocatori sono arrivati 48 ore prima dell'interpretazione, molti erano arrivati da poco. Io della squadra sono contento e convinto che è una buona squadra. Sì, adesso ci manca il risultato, però sono convinto che se continuiamo su queste prestazioni e continuiamo a migliorare la fase didattica, la fase di apprendimento, io la chiamo fase di codice, e miglioriamo la consistenza organica, perché molti giocatori erano ai margini delle proprie squadre, tipo Carrano che era fuori rosa a Teramo, qualche altro giocatore, tipo lo stesso Solini, che era fuori rosa a Carpi, quindi non hanno consistenza organica, ed è normale, come dicevo prima, che ci voleva un mese, un mese e mezzo, diciamo 15 giorni sono passati, io penso che fra un mese sarà molto difficile, ma ritengo anche in questo momento che sia molto difficile per tutti affrontare il Modena. Ecco mister, come si gestisce un momento dove fuori dal campo insomma incomincia, continua la situazione, a offrire distrazioni, se così vogliamo dire, per la squadra, però il gruppo allestito a maggior ragione, con gli ultimi rinforzi, a giocatori di categoria, dall'altra parte la classifica che impone insomma di essere mossa. Ma io rispondo alla seconda domanda, la prima nemmeno mi interessa, perché io non sento mai parlare di calcio, l'unica cosa bellissima è che riuscivamo a portare quasi 7-800 mille persone a Reggio Emilia, quindi vuol dire che la gente ci ama, che la gente vuole bene alla maglia, che la gente vuole bene al Modena e quindi noi continueremo a lavorare come abbiamo sempre fatto. Sicuramente siamo la squadra che in Italia in questo momento ci deridono tutti, perché andiamo, ma come non giocate nel vostro stadio, ma come vi cacciano dal campionato, quindi di calcio si è parlato poco e nulla, però noi stiamo facendo parlare i fatti. È normale in questo momento non siamo accompagnati dai risultati, risultati che avremmo strameritato in tutte e due le partite, però io ritengo di avere l'esperienza, di avere la capacità motivazionale e di far sì che la squadra sia al di fuori da tutte queste situazioni che purtroppo a noi non competono, ma che purtroppo quotidianamente siamo assaliti. Che Reggiane si aspetta? Infine una squadra che forse pensava o sperava di essere magari un pelo più avanti, di avere portato a casa dopo due giornate qualche risultato migliore. No, la Reggiane è una squadra allenata da un allenatore esperto, ottimo allenatore, cioè una squadra di grandissima qualità per l'amore del cielo. Poi non è mai facile giocare a Reggio Emilia, un pubblico caloroso come d'altronde il pubblico modenese. È un derby, è una partita difficilissima, loro hanno tanti giocatori di qualità, rispetto a noi hanno più conoscenza, hanno più valori dal punto di vista non tanto tecnici, perché io ritengo la mia squadra un'ottima squadra, ma soprattutto a livello di conoscenza. Quindi però questo non significa che partiamo svantaggiati. Sarà un bel derby con una grande cornice di pubblico dove noi cercheremo di onorare al meglio la maglia e di lottare su ogni palla. Loro sono una grande squadra, una squadra di giocatori importantissimi, ripeto, è allenata da uno degli allenatori più preparati della categoria. È stata dieci giorni fa anche quella uscita infelice del DS della Reggiana Magalini che ha anticipato un po' il derby. No, 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 non la commento, per l'amore di Dio. La libertà di pensiero è il sentimento più alto che dovrebbe albergare nell'essere umano. Mi sembra che la settimana scorsa ho detto ciò che pensavo. È inutile alimentare polemiche. Probabilmente, non lo so, forse siamo stati troppo bravi o probabilmente abbiamo fatto sì che qualcuno fosse invidioso in quella situazione portare determinati giocatori. Però è una situazione chiusa. Io molto a stima di Magalini. Lo ritengo troppo esperto. Un dirigente di provata esperienza. Sicuramente in quella situazione non era tranquillo, non era lucido. Ma tu conta il clima derby per cercare motivazioni aggiuntive? Ma noi le motivazioni ce le abbiamo. Le nostre motivazioni, l'ho detto ai ragazzi stamattina, la gente ci ama, la gente ci vuole bene, ci seguiranno in massa. Quindi vuol dire che non ci hanno abbandonato. E quindi questo per noi è motivo d'orgoglio, è motivo di farsi disputare sanque ogni giorno in ogni allenamento. Perfetto.